Quest'anno è il primo anno che partecipo a PM Expo, in qualità di ospite a tutti gli effetti perché non sono certificata Project Manager, ma è stato molto interessante la partecipazione a questo convegno. Stamani mattina ho capito che il Project Management, grazie a questa associazione, ha fatto molti passi avanti e quindi l'intervento che io ho fatto, che era un verticale sulla sanità, ha voluto portare uno sguardo verso il futuro alla sanità per poi dare degli spunti per trovare la possibilità ai Project Manager di inserirsi nella sanità del futuro, che sta ovviamente molto cambiando, grazie al Next Generation Plan e grazie al PNRR Missione 6, che è la missione sulla salute. Quindi questo sguardo verso il futuro ha fatto una serie di step, partendo da cos'è la sanità oggi. La sanità oggi è sostanzialmente un sistema isolato e per questo tendente a non comunicare, a non mettere in campo energie e quindi ad essere sostanzialmente un po' atrofizzato. Tutto questo perché la sanità oggi è organizzata in silos e perché ha anche molti vincoli che sono di carattere di leadership che non ha la possibilità concreta, visto il breve tempo in cui le leadership nella sanità rimangono a governare i sistemi di dare uno sguardo di lungo termine, ha dei vincoli che sono di carattere contrattuale, per cui il medico di medicina generale opera con un contratto completamente diverso dall'ospedaliero. La sanità integrativa, nonostante sia un pilastro importante, non si è mai integrata. Quindi diciamo che ci sono una serie di vincoli importanti per far sì che il sistema sanitario possa affrontare il cambiamento in maniera semplice. E allora lo sguardo verso il futuro che noi vogliamo dare è un po' questo. La pandemia ha portato ovviamente molti morti, ha portato anche delle fragilità dal punto di vista psicologico, ha portato le persone lontano dalla sanità e quindi probabilmente oltre al tema dell'invecchiamento, delle nuove povertà, ci saranno da recuperare sicuramente dei determinanti di salute che oggi non sono stati considerati, ma soprattutto c'è da vedere lo scenario futuro. Lo scenario futuro ci porta verso delle opportunità perché arriveranno nuovi finanziamenti, ma ci porta anche di fronte a delle complessità da gestire, delle complessità che sono anche esse stesse delle opportunità. La tecnologia, la tecnologia può diventare un'opportunità se le persone vengono abilitate all'utilizzo della stessa, la capacità di poter guardare i dati con il data mining, interpretare i dati e quindi la possibilità di avere un governo data driven, la possibilità che le persone possano affrontare la formazione e quindi fare un salto in avanti in termini di conoscenze. Tutto questo nell'ottica di un sostegno forte al cambiamento complessivo. Il cambiamento complessivo per noi è un cambiamento olistico, ecosistemico, in cui si riesce finalmente a costruire la sanità One Health.